Forse qualcosa si muove davvero a Termoli. Ieri al Cannarse è arrivato l'imprenditore romano con affari in Romania, amico del presidente Nicola Cesare, pronto a subentrare in società. Ieri faccia a faccia negli spogliatoi tra squadra, ciò che resta dello staffo tecnico, esponenti dell'associazione Gente di Mare e Francesco Maria Calarco. È questo il nome del professionista romano che si occupa di riabilitazione in Romania, che collabora anche con diverse nazionali rumene. Il confronto però non ha portato ad una conclusione definitiva. Infatti ad oggi non ci sono notizie ufficiali che giungono dalla società e Nicola Cesare è ancora al vertice del club. Una cosa è certa, questa è la prima trattativa che porta con sé un nome, Calarco. In questi mesi si sono susseguite cordate lucane, bolognesi, ma mai nessuna aveva svelato i nomi dei diretti interessati, che sia un buon segno staremo a vedere. Intanto la squadra deve preparare il derby con l'Agnone. Caprioli ai nostri microfoni. Antonio Caprioli è ravvivato il gioco quando sei entrato, dai tuoi piedi sono partiti i lanci migliori, però unica pecca, quell'occasione buttata alle ortiche per il termine che avrebbe forse anche meritato il pari. Beh, la sto ancora pensando a quell'occasione, però sicuramente non l'ho voluta sbagliare. È andata così e non ci posso fare niente, dobbiamo pensare già alla prossima partita, dobbiamo cercare di far bene. Senti, sei partito dalla panchina, come mai? Dopo la bella prestazione di Giulianova di 15 giorni fa, la prestazione di domenica scorsa, oggi dalla panchina, come mai? Scelte tecniche. Il mister di questa settimana avrà visto pronti più qualche altro giocatore e ha fatto le sue scelte. Io umilmente sono andato in panchina e quando mi chiami in causa cerco di dare il meglio. L'hai dato come 15 giorni fa, un termo di più vispo nella ripresa, avete cercato di suonare le danze, lo avete fatto la grande, avete dimezzato lo svantaggio, però loro hanno addormentato troppo il gioco. Sì, sono stati secondo me almeno 10 minuti a terra. L'albitro dalla mia parte ha fatto il suo, ma non mi va di parlare degli errori arbitrari. Sicuramente nel primo tempo siamo stati un po' bassi, abbiamo un po' fatto giocare loro, nel secondo tempo siamo usciti meglio, però è stato troppo tardi. Questa delusione dell'ultimo posto, tu arrivi dai professionisti, hai fatto tanti anni di C, quest'ultimo posto in classifica? È brutto, è brutto starci, ma ci stiamo convivendo e ce ne dobbiamo uscire subito da questa posizione. Nello spogliatore chiare c'è? Nello spogliatore noi siamo tutti uniti, è solo che se fosse stata qualche altro, questa occasione di qualità che ho sbagliato io, sicuramente già la palla era andata sotto al set. Siccome sono stato io e per ora la fortuna non c'era dalla nostra parte, si è alzata e almeno un punto l'abbiamo regalato, ce lo siamo persi noi. Senti, domenica ad Agnone, campo difficile, anche loro non viaggiano a mille, anche oggi hanno perso, però il termo li vuole riscattarsi. Noi ogni partita vogliamo riscattarci, speriamo che domenica ad Agnone sia la volta buona, che una bella vittoria ci serve, ci darà pure un po' di spirito positivo e tutto per lo spogliatore. Grazie. 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 Grazie.